guardate come siamo contenti nella sala stampa dell'Axi quando arrivano sempre questi bei ragazzi ma soprattutto questi grandi campioni modestissimi sono i ragazzi del Costes Forza dei Marmi avete vinto il campionato da pochissimi istanti allora tu sei il portiere Lorenzo Vatteroni si può dire mezza squadra portiere dai beh effettivamente si qual è il punto di forza di questo Costes Forza dei Marmi? il punto di forza è il gruppo ovviamente ci sono sì delle individualità però è un campionato che abbiamo vinto tutto insieme e quindi il merito assolutamente di tutti quindi non è il marmo nel nome? no potrei dire il portiere è stato il migliore di tutti però comunque senti complimenti perché veramente avete fatto una conduzione di un campionato con un comportamento esemplare sì quello sì innanzitutto perché siamo ci conosciamo da moltissimo tempo tra tutti quanti siamo un gruppo che avevamo affiatati già prima e piano piano durante il campionato siamo diventati ancora più uniti a parte qualche piccolo litigio è il primo anno che fate il calciotto però bisogna dire è il primo anno e oltretutto siamo un gruppo dove pochissime persone giocavano a calcio moltissimi provenivano dal basket me compreso diciamo la maggioranza comunque nonostante tutto abbiamo trovato il nostro equilibrio anche in questo sport e ci siamo divertiti un sacco e questa è la cosa più importante bravissimo che poi lo spirito è quello che l'Axi ci tiene di più adesso andiamo a presentarvi un personaggio perché veramente è un personaggio allora lui ride così simpaticissimo anche in campo io non so come definirsi capitano cioè diciamo lo presentiamo come tutto fuorché vicepresidente perché al di fuori di presidente cioè dopo presidente non si può anche essere anche vice allora Giacomo Simoncini sei l'artefice di questo grande gruppo no sei l'artefice l'artefice siamo tutti e undici che si sono comportati stra bene perché come diceva Lorenzo nessuno viene da giocare a pallone soltanto due io gioco in porta in verità e soltanto uno ha giocato a pallone poi tutti gli altri o basket o al di fuori di sport cioè avete dato dimostrazione che questa è una disciplina abbordabile per tutti ma soprattutto c'è un grande divertimento sì la base è il divertimento se vieni col divertimento viene tutto più facile e poi il gruppo vuol dire tanto sinceramente se c'è gruppo fai un passettino avanti sempre voi avete vinto un campionato difficilissimo anche perché siete stati tallonati fino all'ultima giornata da professione casa un grande gruppo e vi ha costretto a dover vincere per vincere anche l'ultima partita del campionato è meglio è più bello la sapore della vittoria è più bella vincerà all'ultimo minuto vabbè non minuto però è più bella all'ultima partita sì all'ultima partita quindi è stato disputato ecco per te ci sono per un altro anno come ci aspettiamo questo costo e sforzo dei marmi in Serie A si vedrà intanto la squadra c'è la base c'è è quella l'importanza poi si vedrà ora squadra di Serie A l'ho vista ci ho giocato e sanno giocare a pallone noi si gioca a pallone però c'è sempre da rivedere qualcosa però devo fare i complimenti a tutti i membri che sono stati bravi per davvero senti ovviamente da bravo presidente andrai a reclutare qualcosa per fare degli innesti dei rinforzi ma non lo so ora si vedrà magari cerchi un presidente così giochi più tranquillo libero da questa inconvenienza quello sì è vero è stata più stressante fare tutto andare a fare le note andare a cercare le persone fare l'allenatore fare il giocatore sembra tutti addosso giustamente c'è i pro e i contro se uno può fare diciamo il punto principale della squadra si deve prendere poi tutte le responsabilità che piovono senti ora io ho notato una cosa perché siccome lui fa tutto il presidente un po' il Giuliano Brilli della situazione anzi fa qualcosa di più perché oltre a fare il presidente va anche a reclutare il giocatore fa l'allenatore trova gli schemi giusti per ciascuno l'allenatore in campo fa le sostituzioni e fai tutto io ho visto che sei andato ad abbracciare il custode del campo dopo la partita forse perché l'unica cosa che non hai fatto che è un lavoro che ti ha levato ha fatto lui no perché successo è un fatto con Pasquale parte una persona speciale per davvero bravo mi dispiace che è l'ultima partita che poi ora chissà un altro anno lo rivedrò un altro anno e bravo da morire perché l'ho dato una sberla una volta per dare a un altro ho dato una sberla a lui a uno della mia squadra per dare a uno della mia squadra ho dato una sberla a lui quindi questo bravo per darmi quindi praticamente lui vince Costes quel che Costes perché a suon di sberle manda avanti i suoi giocatori scherzo complimenti complimenti a voi due ovviamente l'Axi è questa il divertimento bellissimo i campionati ma di grandissimo livello tecnico grazie a tutti grazie a tutti